A una ventina di chilometri a Trieste troviamo accanto al paese di San Giovanni di Duino uno spettacolare edificio, si tratta della chiesa di San Giovanni in Tuba. Sorge sopra ad una precedente basilica paleocristiana del V secolo, nella quale si trovano ancora oggi parti inglobate in un muro ed in un mosaico nell'area presbiteriale. L'attuale chiesa risale al 1483 ed è stata parzialmente ricostruita dopo i danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale. È un raro esempio di stile gotico, oggi vale di gusto carenziano. Al suo interno si conservano lapidi antichissime che risalgono addirittura al XII secolo. Il toponimo Tuba potrebbe provenire dal latino ed indicare un condotto delle acque, forse riferendosi alle retrostanti risorgive del fiume Timavo che tornano qui alla luce del sole dopo aver percorso 40 chilometri sotto terra. di un'ottima di un'ottima Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!